Si torna a parlare ancora di Grande Fratello Hip e lo faremo veramente per un sacco di tempo perché appena iniziato c'è stato lo start l'11 settembre e abbiamo già visto qualche cosa di interessante ma il momento a tanto atteso è arrivato, ovvero nella serata di apertura c'è stata la prima puntata del Grande Fratello col pubblico che finalmente ha ritrovato un Alfonso Signorini bello rigenerato, riposato dal periodo di vacanza supportato stavolta da Cesare a buon amici anche perché sapete bene che sono cambiate delle pedine e allora subito c'è stata la polemica, ovvero c'è stata quando durante la presentazione di Alex Schweizer uno dei concorrenti VIP di questa edizione mista che abbiamo magari seguito nell'Atletica Leggera insomma per quanto riguarda lui il conduttore ha detto qualcosa che ha un attimino indispettito i telespettatori da casa i quali hanno riversato la loro rabbia sull'ex Twitter, ovvero su X, perché adesso si chiama così ebbene, e non è perché pagano meno tasse, no? Niente, hanno deciso di rivoluzionare dopo tantissimi anni e mandare in confusione la gente che sapeva che si chiamava Twitter però l'ha fatto anche Facebook, quindi prima Facebook, adesso Meta, insomma ci si capisce niente che sta presso a questi social che diventano sempre più complessi e allora, tornando al discorso, forse lui non se ne sarà nemmeno reso conto ma il pubblico del GF VIP che segue il programma non ha gradito l'esternazione di Alfonso Signorini proprio su Alex il marciatore campione olimpico nel 2008, ma comunque è stato campione è pronto a rimettersi in gioco e ad allenarsi nella casa per farsi trovare non pronto di più per le Olimpiadi del 2024, quindi, come si dice, due piccioni con una fava è arrivato all'interno della casa con un doppio scopo il primo quello di divertirsi, di farsi l'avventura il secondo quello di prepararsi fisicamente, magari avere anche quel motivo in più spinto dall'essere guardato continuamente magari per poter fare dei duri allenamenti per poter aspirare alla qualificazione delle Olimpiadi comunque, durante la puntata c'è stato subito un momento di grande emozione quando la produzione ha mandato in onda le immagini del suo successo proprio che ha avuto ai giochi olimpici di Pechino e sapete, lì gli occhi lucidi ti si fanno per forza di cose perché hai dei ricordi, dei forti ricordi e prima che entrasse nella casa Alfonso ed Alex hanno parlato di uno dei temi nella vita dello sportivo che era abbastanza predominante lui, infatti, è stato squalificato un paio di volte per doping infatti noi, Alex, lo abbiniamo sempre al fatto del doping però, nella prima circostanza, ha accettato la decisione e ha ammesso i suoi errori insomma, ha ammesso che si è dopato nella seconda del 2016, quindi molto recente ha fatto sapere, ha detto sono stato squalificato durante le Olimpiadi di Rio per otto anni per una positività che non è colpa mia solo che a far inervosire una larga fetta di pubblico è stata questa domanda di signorini al neo concorrente del grande fratello ritenuta tra l'altro, ma me lo saprete dire voi nei commenti inadeguata ovvero beh dai, avremo modo di parlarne perché sai, tu ti sei dopato e Alex gli fa eh, ma le cause sono tante e io credo che sia stata la fine di un tunnel nel quale sì, sono entrato alla fine non stavo più bene ma da qualche anno stavo così pensavo che la mia uscita fosse il doping sbagliando ovviamente in quel momento non te ne rendi conto a mio avviso è comunque un errore che in qualche modo va pagato poi Alfonso gli ha chiesto in merito alla seconda positività visto che ormai erano in argomento gli fa ma non ti sei dopato in quella circostanza? e Alex gli fa beh, no, assolutamente no gli utenti hanno reagito in qualche modo sui social hanno detto eh, ora che ti ha messo a tuo agio dai, entra al grande fratello VIP e lasciati andare Alex si emoziona e Alfonso mette il dito nella piaga chiedendogli perché si è dopato ma quanto può essere privo di tatto il resto lo lascio dire a voi soprattutto se avete seguito la puntata cari amici per questo video è tutto vi ringrazio per la visione mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina oh, è tutto gratis vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv spettacolo, politica, sport curiosità e tanto altro detto questo vi saluto mi raccomando vi aspetto al prossimo video ciao un saluto da Max